6 minuti e 47 secondi, 2 minuti e 15 secondi al termine della partita Milito fermato benissimo da Mexesso, bravo, grande fill, rilancio di Rugantino palla per Giulio Battista, punta viava, vai Giulio, vai Giulio, vai Giulio che gol la bestia, che gol, che gol la bestia nel setto alla sinistra del portiere Scarpi un tetto incredibile, un tetto incredibile da parte di Giulio Battista, un gol straordinario sesto gol per lui, la maglia c'è la rossa, è chiusa la partita, dopo sera a casa saluta il Genoa, Roma è quarta, aggancia il Genoa al quarto posto in classifica alla quarantasettesimo minuto, grandissimo gol di Giulio Battista, un grande gol ha ricevuto palla, la difesa è arrivata fino a limite dell'area di rigore il grandesto, la palla nel setto alla sinistra di Scarpi che non poteva veramente fare nulla un grandissimo gol, invece cambia proprio adesso però il risultato di Firenze con il gol di Gilardino